ragazzi siamo qui in compagnia del solito Valerio al solito punto due mesi d'ora sul gommone sul trattore prima trainavamo le spigole ma vediamo un po' se ci sono i tonni sennò dopo peschiamo un po' di serra ci fermiamo e vediamo voglio recuperare le altre canne si è andrecciato questo cosa fa schifo è una buca è una buca tira questa mamma come tira mamma come tira mamma come tira si buccia un po' iscriviti al canale bellissimo stanca bellissima e pure grossa mamma quanto è bella ci siamo bellissima bellissima mamma io ferma bellissima 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 se lo capirà, ma speriamo che la notte è più piccola non si può dire quando vuoi dire, hai fatto Grazie a tutti 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 Bella Grazie a tutti Prima spigola spinning Grazie a tutti